È un'esperienza da cui si è tornata da poco, bellissima però. Sì, è stata un'esperienza bellissima, con un gruppo di persone bellissime. Cos'è? Io non so cosa dire. Il modiale è del 17, Beatrice è un'esperienza bellissima o ancora di più? È stata un'esperienza veramente bella, fatta con un gruppo magnifico. Anche se siamo arrivate terze, volevamo... La sua esperienza con l'Under 17, infatti torna dai mondiali di Costa Rica, è un'esperienza bellissima la tua. Sì, è stata un'esperienza bellissima, con un gruppo magnifico. Anche avendo giocato... Eh, cazzo, vedi. In genere per questi grandi risultati sportivi c'è sempre una dedica, la tua? La mia ovviamente alla mia famiglia e anche ovviamente ai miei mister che mi hanno insegnato tutto ciò. Ce l'abbiamo fatta! Anche! Anche! Anche!